Il Centro UFO di Brunico ha festeggiato la decima edizione del Festival della letteratura. Assieme al Centro UFO di Brunico compiono dieci anni anche le notti di musica, teatro e letteratura dedicata alla formazione giovanile. Literature Nachtfeer, quattro appuntamenti dove il mondo letterario diventa esperienza di vita e si incontra con altre forme di arte. Non a caso il motto del Festival ribadisce scherzosamente che la letteratura non è solo un'avventura della mente, ma un'esperienza che si acquisisce al Centro UFO. E l'iniziativa non mira solo alla formazione dei giovani di Brunico, ma rappresenta un palco d'eccezione per talenti in erba, scrittori altoatesini attivi da anni o anche per chi ancora non ha le idee ben chiare su cosa farà da grande. Quello che è certo è che le opportunità di esprimere le proprie personalità, aspirazioni o professionalità sono aperte a tutti. Assieme al Centro Culturale Giovanile UFO collaborano alla realizzazione di questi appuntamenti anche la Biblioteca Civica, il suo trentesimo anno di attività e la Scuola Musicale di Brunico. Una grande varietà di poesie, testi di prosa, poetry slam e hip-hop sono state presentate dai ben 12 autori che quest'anno hanno partecipato. E per questo importante anniversario anche Reinhold Giovanet ha preparato il passaggio di queste notti letterarie nell'edizione speciale della rivista letteraria Ucura. Grazie a tutti i nostri spettatori e revisione a cura di QTSS